Allora, benvenuti, eccoci, eccovi che siamo riduci dall'ultimo incontro sullo scripting con le poesie, abbiamo visto quindi come fare delle poesie con una lista vediamo invece stasera come fare dei quiz, anche qui useremo delle liste lo script sarà un pochino più complicato, quindi non lo seguiremo filo per filo ma vedremo come usarlo, quindi quello che useremo è questo quiz 2013 vabbè corretto 2 perché gli ho fatto un po' di mestieri, di correzioni troverete lo script affiancato allo script youtube, quindi l'ho pubblicato su pasta e bin prendiamo l'oggetto che è una porta, serve per fare in pratica dei quiz in cui c'è una porta che si apre solo se si risponde correttamente alle domande allora, rezziamo, vedete che in realtà visto che la porta è stata buildata in un modo un po' particolare sembra che non ci sia, ma attenzione, è stata semplicemente rezzata un po' più in alto quindi se per caso prendete poi questo script, ricordatevi di poi abbassarlo ecco, allora questa è una porta che in pratica ha dentro di sé uno script allora qualche tipo di script si può mettere poi no text che lo rappresenta però la parte interessante è che cliccando vedete che qui in questo momento si apre si apre perché? perché questa porta si ricorda degli avatar che hanno risposto in questo caso sa che io ho già risposto alle domande la porta dopo 10 secondi si chiude ma di questa porta cominciamo subito a imparare come si fa il reset perché vedete che la porta è costituita da quiz, port che sono degli script e poi c'è una note card che indica lo script da eseguire allora per noi la cosa più importante è il quiz, questo facciamo doppio clic, qui ci sono un po' di cose e impariamo a fare il reset allora facendo il reset vedete che la porta ci dice qua sotto che sta leggendo la note card e poi diventa pronta nel momento in cui è pronta vuol dire che la porta per ogni avatar che si presenta nel momento in cui lo clicco, prima di aprirsi, mi fa una domanda e qui adesso non mi ricordo chi l'ha fatta non ho voglia a quest'ora della notte di concentrarmi comunque dice in un cassetto ci sono tre calze verdi, sette rosse e nove nere quante calze devi pescare senza guardarle per averne due dello stesso colore quindi qui bisogna fare tutto un ragionamento più o meno matematico e la risposta giusta dovrebbe essere quattro se io provo a rispondere tre vedete faccio tre la risposta è sbagliata in realtà la script stava funzionando ma c'era un pochino di lag se vediamo sulla storia vedete che ctrl h vediamo sulla storia effettivamente mi diceva risposta errata poi lui ha capito che l'ha toccato ancora mi rifà la domanda se io continuo a sbagliarla quindi faccio di nuovo nove ad esempio la risposta è errata e in questo caso visto che ho messo al massimo due tentativi se io provo di nuovo a cliccare mi dice non puoi più perché hai già fatto troppi tentativi quindi questa porta diventa per me chiusa la porta si ricorda a tutti gli avatar che l'hanno toccata quindi per ognuno si tiene la storia di quanti tentativi ha fatto se l'insegnante, cioè l'owner di questa porta vuole resettare cioè quindi ripristinare la porta deve fare un po' quello che abbiamo visto prima quindi andare nel quiz e rifare il reset quindi facendo il reset della porta la porta si rilegge la note card che adesso poi la vediamo bene e quindi si predispone in modo tale che anche chi non è riuscito a fare il quiz anche il stesso avatar può riprovarci vedete? quindi a questo punto se gli dico 4 vedete che la porta si apre e mi permette di passarci attraverso finché la porta è aperta e posso passarsi attraverso quando poi è chiusa ovviamente la porta non si apre però se io la riclicco visto che ho risposto esatto lei se la ricordava da prima e non devo più fare il quiz quindi capirete che è possibile mettere un insieme di di porte una dietro l'altra per fare un percorso e magari far partire i ragazzi o chi partecipa ogni diciamo 10 secondi in modo tale che poi rispondano autonomamente ma però vediamo ancora un po' più nel merito il funzionamento di questa porta quindi entriamo dentro abbiamo visto che c'era questo famoso quiz ah qui vediamo la note card la note card che si chiama quiz che vedete è fatta in questo modo cioè è fatta da tante righe la prima sembra che siano due righe ma in realtà se allarghiamo vedete che è una sola riga quindi in realtà dove devono essere delle righe che nascono e muoiono sempre nella stessa riga qui abbiamo visto che non è possibile mettere dei caratteri accentati o dei caratteri speciali perché disturba il comportamento del nostro ah stava registrando quindi questo adesso devo levarlo perfetto allora dicevamo non possiamo allora dicevamo qui deve esserci la domanda non possiamo metterci lettere accentate se dobbiamo mettere per forza lettere accentate usiamo dei trucchi quindi ad esempio la accentata non scriveremo accentata ma scriveremo ad esempio città scriveremo città con un apostrofe in fondo e con l'apostrofe perché è abbastanza normale che in questo modo si pronuncia e si vedono queste cose adesso studierò poi anche un sistema eventualmente se ce la faccio già potrei farlo vedere la prossima volta in cui consentire di mettere anche lettere accentate o speciali tipo nelle lingue straniere comunque fatto sta che date la domanda poi dopo nelle righe successive vengono messe tutte le possibili risposte e la risposta giusta deve essere prefissata con un asterisco in questo modo si capisce qual è la risposta e quindi lui riesce a capire e esercitare quindi qui non salviamo perché andava bene la parte iniziale volendo quindi si possono mettere dicevo prima una catena di di porte quindi questa porta qua ad esempio cambiamo il quiz e invece di dire questo possiamo mettere tipo una quiz tipo qual è la capitale della Francia punto interrogativo e poi sotto mettiamo Madrid Roma e ovviamente Parigi Vienna possiamo mettere anche tante opzioni possiamo anche mettere tipo Londra Praga e insomma e così via al massimo possono essere 12 ricordatevi che ogni scelta visto che deve stare nel tastino non può essere molto lunga e quindi se per caso avete delle risposte molto lunghe piuttosto potete mettere qua qualcosa del tipo non so tipo 1 uguale Roma virgola 2 uguale Parigi in modo tale che poi nei tastini potete mettere 1, 2, 3, 4 e questa è una tecnica per mettere anche cose più lunghe qua dentro lunghezza totale della prima della domanda non può essere più lunga di 255 carattere che vuol dire più o meno l'equivalente di 3 o 4 cose lunghe di qua ok quindi scriviamo lasciamo questo ok dopodiché facciamo allora questo qui magari cambiamo il nome al quiz e lo chiamiamo quiz capitale ok così così lui viene identificato e questo dopo lo chiamiamo quiz calzini questo punto una cosa molto importante è che io posso scrivere in chat e scrive sul canale 100 se sono l'owner 100 reset ma facendo 100 reset vedete che sia il quiz capitale che il quiz calzini ricevono il comando di reset e si rileggono la note card quindi a questo punto posso tentare di fare la prima domanda qual è la capitale della Francia Roma no riproviamo Parigi perfetto allora ho fatto il primo quiz vado avanti e qui mi chiede il famoso discorso sui calzini allora a lezione se vi ricordate c'era un piccolo fenomeno o meno per cui quando rispondevo quindi qua se rispondevo 4 in realtà 4 è giusto ma si aprivano anche le altre porte questo script adesso è corretto e quindi ho finito e quindi voi capite che a questo punto posso fare tutto un percorso come hanno già fatto i colleghi che hanno fatto matematica qui hanno fatto una land con quiz di questo tipo e quindi questo script può essere disponibile eventualmente le modificate se vi da fastidio queste scritte tipo la porta si chiude eccetera potete modificare lo script e andare vedete io ho separato la parte di quiz e la parte della porta la porta qui abbiamo tutte le cose che permettono di comandare la porta e quindi che permettono di di combinare insomma le caratteristiche del primo vedete la porta si chiude la possiamo ad esempio metterci barra a barra in testa quindi non lo dice vediamo un po' se c'era qualcos'altro niente quindi in teoria così non dice più la porta si chiude possiamo salvare questa versione così come anche le cose da dire quando sta leggendo la note card se non vi piacciono quelle che ho messo io perché sono in inglese le potete rimodificare notate che il reading note card lo dice in modo tale che lo vede soltanto l'owner quindi non è dispersivo e poi la risposta giusta e sbagliata lo andate andate un po' ecco vedete qua la riga 81 mette il nome dell'avatar e gli dice hai risposto correttamente e poi invece se si è risposto sbagliato lo scrive qua risposta errata vedete e qui si fa il conteggio cercando di di contare per ogni avatar quante risposte giuste e quante risposte sbagliate è fatto qui max errors vedete che è meno 2 quindi vuol dire che può andare sotto al massimo di meno 2 massimo numero di volte se volete accettare 3 errori volete mettere meno 3 e qui abbiamo finalmente vedete che qui c'è una lista di avatars che sono gli avatar su cui lui segna tutte le informazioni giuste quindi man mano che arriva qui c'è un il primo pezzo dello script permette di leggere la note card adesso non stiamo a discutere in dettaglio comunque inizialmente legge la riga 0esima della note card fa ll get note card line di 0 e poi via via man mano che arriva perché poi quando arriverà la riga dal server arriva qua prende la lista la riga del quiz se lo memorizza in modo tale da poterselo poi ricordare poi dopo e poi qua quando viene toccato qui vedete che c'è un touch quando viene toccato cerca di vedere se l'avatar che ha toccato è già presente nella memoria degli avatar se è già presente cosa fa va a vedersi quante risposte sbagliate ha già fatto se questo flag indica anche se ha risposto giusto quindi nel momento in cui vede che è stata risposta o almeno una risposta positiva una risposta positiva allora dice alla porta di aprirsi se invece il flag è minore di 0 va a vedere se è al di sotto di meno 2 allora ti dice non hai già fatto troppi tentativi altrimenti cosa fa pone il dialogo alla domanda e ponendo il dialogo alla domanda poi al listen andrà a vedere se la risposta è quella giusta quindi al listen ascolta il dialogo che viene fatto va a vedere se la risposta è una delle insomma vede se nella posizione è corretta la posizione è corretta la capita all'inizio perché ha calcolato che c'era l'asterisco e quindi a questo punto è in grado di dire che ha risposto correttamente diciamo che questo è un primo esempio di quiz di cui volevo per farvi vedere altri esempi nella lezione successiva comunque per questa volta direi che ne abbiamo già fatto abbastanza allora vi auguro come al solito una buona serata e ci risentiamo per il prossimo incontro di mercoledì prossimo su Edmondo grazie